e ciao a tutti ragazzi ben ritrovati in periodo di coronavirus in periodo di coronavirus ci siamo un attimino adattati ditemi se mi sentite tanto siamo in Mammere Travengers sezione bolognese io sono SF Champion questo nel riquadrino qua questo riquadrino qua quello quello e ci abbiamo Xur in chat audio ciao Alessio ciao Paolo Raven ciao Alex ciao Leo ci sentite tutti e tre esatto prima di tutto ci sentite tutti e tre tutto a posto ma noi non possiamo sentire loro ragazzi ci senti Xur non lo sento è probabilmente perché prova a dire qualcosa qualcosa continua a dire qualcosa qualcosa no non mi sento neanche lei alza un po' la voce magari potresti avere se voi mi sentite bene ah io ti sento bene però non so cosa dire si 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 sente mai basso ho detto ah ok allora strella esatto bene dai metti un giochino in schermo adesso intanto mettiamo il primo allora quindi intanto buonasera a tutti di nuovo e partiamo con il primo giochino com'è adesso si sente? si adesso direi che si sente ancora più alto adesso direi proprio di si cioè sono più forte si è molto molto vuol dire che è meglio che è basso no no secondo me è giusto così adesso va bene adesso proviamo a farne anche qua di perfetto 30% di boost frattanto ciao Alessio ciao vabbè Paolo Raven l'avevo scritto anche prima comunque Alex Giro X ha anche l'epo che altro c'è di belli in chat non mi fa mettere a posto l'audio del gioco facciamo così allora intanto mentre aspetta resettiamo ancora perché non mi da il tab aspetta è meglio che senti la chat è meglio che senti la chat è meglio che senti la chat no non mi fa Comunque, allora iniziamo a parlare un po' del King of Fighters 97 King of Fighters 97 è il capitolo conclusivo della saga di Orochi Partita, se non mi sbaglio, dal 95 perché è una trilogia Fatto 95, 96 e 97 E in pratica nel capitolo conclusivo finalmente a fine torneo si va a combattere contro quello che è effettivamente Orochi Nei capitoli precedenti si tentava chi di risuscitarlo, chi di impedire di risuscitarlo Ma nell'ultimo capitolo qualcosa succede e dobbiamo comunque picchiarlo Facendo in maniera che non conquisti il mondo Aspetta, puoi sempre? Ciao pezzo di nerd, grandissimo E niente, quindi dicevo In questo ultimo capitolo della trilogia Bisognerà confrontarsi con Orochi Ci sarà sempre i pro-Orochi e i contro-Orochi Il gioco è stato ovviamente convertito per mille mila console in mille mila versioni Abbiamo la versione Siga Saturn Che va andando a sfruttare la memoria di espansione Quindi i 4 giga di RAM E intanto grazie Grazie MPGD Ah, sì, MPGD per la sub Grazie mille Dicevo, va a sfruttare i 4 giga di memoria di espansione Sì, 4 giga, 4 mega Di memoria di espansione Ciao Attilson E del Saturn Per renderlo sicuramente più fedele alla sala giochi Non è Arcade Perfect su Saturn Mancano anche lì un po' di friend animazione Ma sicuramente è migliore della conversione PS1 La PS1 come ricordiamo aveva solamente 1 mega di RAM E nei picchiaduro Certi picchiaduro tipo questo Che ne usano tanti Poretta faceva quello che poteva fare Altre conversioni C'è nella collection della Playstation 2 L'Orochi Collection Eccola qua Dove appunto ci sono i vari King of Fighters Dal 94 al 98 La versione AS Quindi per Neo Zero Cartucce Vediamo se si vede bene Sì, direi che si vede bene E... E poi una versione interessante Che non è proprio il KOF 97 Ma è ispirato al KOF 97 Che è il King of Fighters Round 1 Per il Neo Joe Pocket Eccolo qua Esiste il Round 1 e il Round 2 Il Round 1 è più ispirato al 97 Il Round 2 è ispirato al 98 Ed è a colori sul Neo Joe Pocket Questo è ancora in bianco e nero È stato convertito Per altre console tipo PSP O appunto PlayStation 1 E... Versioni che adesso qua non ho E forse anche per qualcos'altro Quindi comunque un gioco abbastanza famoso Il salagiochi è girato tantissimo Anche qua a Bologna non mancava in più Di un cabinato Ciao Ago E... E niente Adesso stasera proviamo a vedere Se riesco a fare un UCC È un gioco abbastanza Difficilotto Quindi se non ci riesco subito Magari Vediamo Vediamo di provarci un altro paio di volte E... Niente Dai Ci proviamo Io quando vedo il tipo con lo scopettone giallo in testa Ma chissà chi sarà ispirato Chiudiamo questi 3 marini qua Ciao Skarax Mitico Eh ci proviamo Ago a picchiarli tutti Ma a volte mi picchia lui sai È un gioco bello tamugno questo Allora I primi due team Si lasciam picchiare abbastanza felicemente Dal terzo in poi Sarà necessario Sarà necessario avere un po' più di strategia Eh si giro C'ho la torse ma ce l'ho già da mossa Dai tranquillo Da quel lato lì Eh potrebbe essere un'idea Eh potrebbe essere un'idea Esatto Se vuoi Allora una cosa Che a me mi ha fatto storgere sempre un po' il naso di questo gioco Anzi sono due le cose Uno che Uno che le special anche a livello 1 fanno malissimo in sto gioco Alcune riescono a togliere anche metà energia E 2 che in certi punti sembra incompleti in quanto certi stage hanno l'audio solo quando c'è alcuni personaggi contro cui giochi E quando invece ci sono mini dove non c'è un audio fatto apposta per loro L'audio è inesistente nello stage Quindi mi ha sempre dato un po' l'impressione di essere un'opera non compiuta del tutto diciamo Forse sai col fatto che dovranno uscire ogni anno Magari questo qua avrà bisogno di un po' più di tempo Avranno detto facciamolo uscire così tanto Eh Questa è la mia impressione Magari non è vero Però Non Non capisco Non capisco altrimenti perché Eh oddio secondo me adesso ti mettono anche più fretta sai Rax non si sente Eh Daniele dicono che non ti si sente Secondo me sei basso Allora io posso Ho tirato sul volume Comunque dicono che al massimo ti leggono le lab Ma Mi sono accorto adesso mi sto dando dei team edit contro La prima volta che lo vedo Mi sono rimasto malissimo Non capisco altrimenti perché lo vedo Sì vedi dice sei proprio basso Sto cercando di trovare il microfono Se lo trovo Lo vedete può guardare Grazie pezzo di neve per lost Grazie a tutti 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 Il follow Grazie a tutti 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 Peccato Grazie a tutti 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 Secondo Il 97 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Tanto che Grazie a tutti 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 Wow Grazie a tutti 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 Io Grazie a tutti 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 E quindi Grazie a tutti Grazie a tutti Dicono sempre Grazie a tutti Grazie a tutti Un'altra cosa Grazie a tutti Grazie a tutti Io Grazie a tutti Alex E allora E quindi E quindi Grazie a tutti Voglio Grazie a tutti E quindi E' E Grazie a tutti E quindi Grazie a tutti Questo è E quindi E tu Il suo pugno Grazie a tutti E quindi Quindi sei alla moda In pratica E quindi E quindi Chissà se E quindi E quindi E quindi Bravo Giro Guardi a tutti Andiamoci E quindi E quindi E quindi E quindi E un'energia E quindi E quindi E quindi E quindi E mi disse E quindi E quindi Si vediamo E quindi 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 E' E quindi 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 E' E quindi 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 E' E quindi 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 E E quindi E quindi E quindi E quindi E quindi E E quindi E' E quindi E quindi E quindi E E quindi 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 E quindi